Al centro del Consiglio Comunale di Giarre di ieri sera l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2017-2019 e del documento unico di programmazione che ha visto l'opposizione ritirare tutti gli emendamenti, 10 in tutto, che avrebbero potuto bloccare la macchina amministrativa, con il rischio di sforare i tempi previsti per la sua approvazione ed il conseguente scioglimento dell'organo consigliare. Nel suo intervento il consigliere Musumeci ha dichiarato «è da apprezzare quello che abbiamo fatto come opposizione, ritirando gli emendamenti utili per la città e che riproporremmo se il bilancio verrà adottato nei tempi giusti». Prima del voto i consiglieri Leopatanè, Santonoceto, Savoca, Di Maria, Arena e Valenti lasciano l'aula permettendo alla maggioranza amministrativa di ottenere la maggioranza consigliare e quindi di approvare il bilancio 2017-2019 con sei voti favorevoli, di prima Caltabiano, Camarda, Castorina, Finocchiaro e Maccarrone, e quattro astenuti, il presidente del Consiglio Longo, Cardillo, Leotta e Musumeci. Alla seduta consigliare hanno partecipato anche i lavoratori della Dasti, che a fine seduta hanno dichiarato, attraverso il rappresentante sindacale UGL, Rosario Garozzo, di rimanere ancora in stato di agitazione poiché l'azienda non intende pagare le mensilità arretrate nonostante il tentativo di ieri del sindaco Danna che aveva incontrato la dottoressa Vitale per chiedere un'assunzione di responsabilità da parte dell'azienda. I lavoratori hanno dichiarato che garantiranno i servizi essenziali con una squadra di 10 operatori.